Sono Leon Battista Alberti e ci tenevo a precisare che tutti gli studi sono tessuti italiani realizzati dalle studentesse e dagli studenti dell'Istituto Superiore Leon Battista Alberti e quindi realizzando il cosiddetto Made in Italy sotto la supervisione e delle istancabili, insuperabili, invidiabili e se ne invidiano in tutto il mondo parliamo delle professoresse Stefania Cassandro e Valeria Magistro Allora prima abbiamo un piccolo problema, abbiamo un applausometro per cui la spinata non parte se non si raggiungono certi livelli di applausi, noi dobbiamo fare una cosa Grazie a tutti 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 allora grazie a tutti quello che dico sempre la nostra marcia è in più ci mettiamo in cuore grazie a tutti grazie a tutti